Nonostante la classifica sia emblematica, la nostra squadra non ha intenzione di arrendersi prima del dovuto. E questo è il pensiero di Marcus Roden, d'utile centrocampista svedese dell'FC Crotone, una delle note complessivamente più positive di questa amara stagione dei Rosso-Blu, la prima in Serie A. Continueremo a battagliare fino all'ultima giornata, afferma Roden, poi vedremo cosa saremo riusciti a fare e dove saremo arrivati. Proveremo a rendere difficile la vita anche al Chievo Verona. Sì, ovviamente. Dette sono 9 importanti game. Vi devono vincere alcune di loro per giocare in Serie A l'anno prossimo anno. Sì, ovviamente sono pronti. Sì, ovviamente. Sì, ovviamente. Sì, ovviamente. Sì, ovviamente sono riusciti a tutti i tutti i miei. Sì, speriamo. Sì, abbiamo fatto un ottimo game l'ultima volta. Sì, credo che se Se gioca come abbiamo fatto in questo gioco, abbiamo tutte le possibilità di ottenere tre punti in questo gioco. Sì, riusco molto. E' uno dei miei migliori cose sul gioco. E ho anche un po' di potenza nei piedi nel gioco. E' una cosa davvero buona cosa per i gioco.